Una sequenza talmente agghiacciante che è quasi impossibile crederci. Un uomo ha sgozzato il suo figlioletto di due anni. E' accaduto in questa villetta al civico 22 di Via Volture a Torre San Giovanni, Marina di Uggento. Giampiero Mele, 25 anni, padre del piccolo Stefano, ha portato qui il suo bambino, nella casa dei genitori di lui. Ha strappato una pagina da una rivista e ci ha scritto sopra poche righe indirizzate alla sua giovane compagna Angelica, la madre di suo figlio, con la quale da tempo le cose non andavano bene. Continui litigi, dice la gente, tanto che pare che lui avesse minacciato più volte il suicidio. Il contenuto del biglietto è più o meno questo. Alla fine ce l'ho fatta, non posso più vivere così e non posso far crescere mio figlio in questa situazione. Lo porto con me. E poi un altro rigo per chiedere scusa alla propria madre. Poi ha preso una corda, ha creato un cappio piccolo piccolo, l'ha stretto al collo di suo figlio e ha tirato forte. Ma il bimbo non è morto. E allora con un taglierino ha tagliato la fune e poi con lo stesso taglierino ha sgozzato il bambino, tenendolo fermo sul lettino. Subito dopo ha chiamato la sua compagna, ha ucciso il bambino, le ha detto. Ha chiuso il telefono e è andato in bagno dove aveva già assicurato un'altra fune per lui ad una porta ed ha tentato di impiccarsi in maniente. Allora ha provato a bere della varichina, alla fine ha deciso di tagliarsi le vene. La sua compagna nel frattempo, in preda al panico, aveva avvisato il padre che a sua volta aveva allertato il 118. E sono stati i propri sanitari arrivati in ambulanza a trovarsi davanti la macabra scena. Il corpicino senza vita in una pozza di sangue sul lettino all'ingresso dell'abitazione. Accanto a lui il padre con i polsi tagliati e poi sangue ovunque, sul pavimento e sulle pareti di ogni stanza. Il piccolo non respirava più. Mele è stato accompagnato in ospedale a Casarano. Ora è fuori pericolo. In queste immagini vedete l'ambulanza, scortata dalle auto dei carabinieri, che lo trasporta da Casarano a Lecce, dove tuttora è ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi, piantonato costantemente dai militari. Sulla scena dell'orrore, poco dopo è arrivata la madre di Mele e poi Angelica, la mamma del bambino. I sanitari non le hanno permesso di assistere alla scena. Lei, sotto shock, si è gettata per terra, qui in giardino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casarano, quelli della scientifica ed anche gli agenti del commissariato di Taurisano, oltre a numerosi finanzieri, giunti appena appresa la tragica notizia, perché il padre di Angelica è un loro collega. Sul posto sono arrivati insieme il magistrato, il PM di turno, Guglielmo Cataldi. Dottore, ci può dire qualcosa? E il medico legale, Alberto Tortorella. Mi dice soltanto se è stato strangolato oppure se... Il dramma, senza dubbio premeditato, è iniziato alle 10 del mattino, quando Giampiero è andato a prendere il piccolo Stefano da casa dei nonni materni. Nessuno poteva immaginare l'orrore.